ciao a tutti primo video del 2024 e vediamo insieme i prodotti che ho comprato da temo per un totale di circa una 45 euro vediamoli allora cominciamo con il primo della lista che viene chiamato portafoglio è più un borsello molto stretto da uomo con una due tre tasche di colore nero l'accetto in un punto solo io questo l'ho preso perché me lo immagino più che altro sulla cintura qui non lo utilizzo ormai con l'accetto già non togli che c'è c'è oltre i tre vediamo che c'è anche uno esterno di piccole dimensioni vediamo un momentino quanto piccole quindi un otto centimetro e mezzo e scende nella parte centrale fino a otto centimetri quindi primo prodotto è questo secondo prodotto forse quello più interessante o forse no non lo so non è la prima volta che compro delle scarpe dalla cina ve lo dico sinceramente e con i numeri ci siamo ci siamo alla grande io porto un 42 e mezzo 43 considerate che ad esempio anche le mie ciabatte vedete prese lì il numero c'è perfetto mi stanno su benissimo il numero perfetto ma non sono quelle che ho acquistato questo giro a questo giro acquistato queste queste vedete che in fotografia e mi piacevano molto e anche adesso che sono arrivate secondo me se ne metto un po guardiamone ecco questi questo è il riscontro nella realtà della scarpa ordinata su team allora vediamo che c'è sotto veramente già ben fatta non posso dire niente su rispecchia la realtà su questo punto niente da dire anche qui dietro dove c'è questo per magari portare le scarpe molto carino il fatto che sia presente sempre dentro questo per tenere la forma così che magari durante il viaggio non si schiacciano o rischino di rovinarsi molto molto carino come cosa l'ho apprezzata veramente tantissimo sia nella scarpa sinistra che ovviamente nella scarpa destra allora mi piace anche il materiale ovviamente sono scarpe primaveri gli estive quindi di conseguenza non è che posso pensare di utilizzarle in autunno sotto la pioggia eccetera eccetera anche senza posso anche calzarle velocemente senza per forza dovere stringere i lacci anche questo è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a sceglierle prezzo quasi 17 euro molto carine secondo me quando arriverà la primavera e comincerò a indossarle in modo continuativo almeno due o tre anni me le me le faranno e sono uno che tratta bene le cose invece guardando stavo adesso sentendo la parte interna parte interna sento un po diciamo pelosa quindi la sento un po pelosa la parte interna dove entra il piede anche sotto sia lateralmente che sulla suola l'effetto al tatto è come dire peloso è come sentire del pelo molto molto basso ma ma è così e abbiamo visto anche queste prossimo acquisto che ho fatto è stato un portafoglio allora per 4 euro e mezzo uno la rischia e dice perché l'ho preso l'ho preso perché mi piaceva il fatto che ha tante tante tasche il portafoglio attuale ne ha ancora di più e non perché debba tenerci dentro 10.000 carte c'è non togliere che vabbè 4 euro e mezzo male che vado faccio un regalo carino qualcuno e via andare veramente e poi ecco molto carino il fatto che guardate qui c'è uno spazio addirittura per mettere una scheda sim qui dall'alto ovviamente e una scheda sd serve stato anche molto carino che ci fosse uno spazio per magari una air tag ok però qui lo spazio davanti qui uno spazio dietro per i contanti proprio perché mi piace analizzare al fondo il prodotto vorrei avrei avrei voluto anche uno spazio per le monete ma non si può avere tutto dalla vita guardiamo invece esteriormente no questa non è una tasca nascosta è una cucitura quindi esteriormente non c'è niente di più però molto carino effetto chiaro effetto pelle chiara con le cuciture bianche ecco so dove ho sbattuto la testa ecco nella peggiore dell'ipotesi sarà sarà un un regalo e ok prossimo acquisto allora vedete che ho preso delle 200 fascette e adesso ve le faccio vedere ok tutte della stessa lunghezza sempre qualcosa di utile tre ore e mezzo portate a casa anche non si sa mai poi continuando andando avanti perché se andassimo indietro ho preso questo questo è un nastro adesivo che mi serve perché sulla mia poltrona di pelle si è aperta una cucitura e quindi dato che non voglio fare un lavoro estremamente accurato ci metterò sopra questa e via andare quindi anche qui ecco la cosa positiva vedete qui leggete parzialmente rimborsato cosa vuol dire vuol dire che c'è stato una diminuzione di prezzo rispetto al momento in cui l'ho acquistato ho chiesto investiato accordato il rimborso tramite del credito su temo fatela questa cosa cosa molto secondo me corretta utile quando si va a qualcosa così si può dire solo chapeau ultimo ma non ultimo allora infatti al penulti questo l'ho preso perché probabilmente non lo userò vorrei usarlo per sostituire del gel silicone in alcuni punti però vedete l'aspetto positivo che non riesco a fare un bel lavoro rispetto a che con una pistola col silicone quindi preferisco magari un momentino aspettare prima di prima di usarlo anche perché vedete cazzo metto giù sta piotta e è larga cioè non posso metterla ad esempio sotto i sanitari perché c'è i sanitari bianchi e il tappeto del pavimento del bagno di un colore per cui un bianco cioè è una botta troppo forte vabbè ciò non toglie che la sua funzione appunto è nastro sigillante in striscia adesivo impermeabile va bene ammettono pure che è impermeabile all'acqua ottimo prossimo acquisto se siete amanti come me le cose un po della cucina della casa tappetini per frigorifero quindi sono quattro mi sono arrivati sì non vorrei sbagliarmi sì ecco quattro pezzi e niente li mettete con la parte piatta verso il basso io le ho messi così e con la parte con questi pallini ruvidi un momentino verso l'alto in questo modo ecco non si rischia magari che qualcosa messo male nel frigor messo male in un ripiano nel frigor scivoli e cada sembrano non puzzano igienici profumati e quindi li ho presi per 5 euro mi sembra un buon acquisto l'ultimo ho preso questo un gancetto perché voglio metterlo l'ho già applicato voglio metterlo su un mobile in alto e qua voglio appenderci lo zaino quindi questo lo metto sull'anta qui dentro c'è l'alta sopra già visto che passa e non crea problemi e qui ci metto il zainetto perché non voglio mettere cose a contatto con i muri nella lo studio e quindi questa è la soluzione che ho trovato questo è stato il mio primo video dell'anno mio acquisto su temu e per qualsiasi domanda scrivetemi spero di avervi tenuto compagnia con lo spero tanto e ciao ciao al prossimo video